Allora, Presidente Sanzi, onorevole Salvini, non è Presidente, mi dica una cosa, è pronto a fare, buonasera, è pronto a fare i prossimi due anni di opposizione, mettiamola così, bella dura. Buonasera a voi. Ma è frustrante, Dottor Porro, è frustrante perché sono intorno al tavolo a trattare gli stessi che stanno bloccando tutto da un mese che hanno litigato fino a ieri. Sarebbe surreale che avessero tenuto fermo il Paese per un mese, questa settimana non c'è attività parlamentare, settimana scorsa non c'è stata attività parlamentare, eppure le emergenze ci sono, lei lo diceva, il piano vaccinale, l'assunzione di medici e infermieri, le scuole aperte a singhiozzo con migliaia di cattedre vuote, i rimborsi non arrivati. Noi abbiamo chiesto di entrare e lavorare in Parlamento questa settimana, ma il Parlamento questa settimana non funziona, perché c'è Fico che incontra la Boschi, c'è Renzi che litiga con Conte, il sottotitolino che avete dimentica una terza opzione, che mi sembrerebbe quella più naturale, quella più dignitosa, quella più salutare, fra Conte e Draghi, ma io sceglierei gli italiani, con tutto rispetto per l'uno e per l'altro. Come è possibile che si rimettano d'accordo quelli che stanno litigando da sei mesi, a meno che il tutto non fosse dettato da un cambio di poltrone, esce la Zolina, entra la Boschi, esce Buonafede, entra Orlando, se fosse così sarebbe una schifezza indegna di un paese come l'Italia. Però hanno litigato fino a settimana scorsa, non penso che trovino l'accordo oggi. Un governo tutti insieme, ma non puoi mettere tutti, per fare cosa? Io sono per tagliare le tasse, il PD ha sottoscritto il rinnovo del catastro e quindi l'aumento dell'Imu, io sono per salvare quota 100, il diritto alla pensione e il diritto al lavoro, il PD è per azzerare quota 100 e tornare a legge fornero, io sono per aprire tutti i cantieri domani mattina, tutti, la gronda di Genova, partire con i lavori per il ponte sullo stretto di Messina, la Roma Latina, la dorsale adreatica, i 5 Stelle piuttosto che scavare un tombino fanno ricorso a 18 comitati e a 32 tar e corte dei conti. Quindi non ci si può mettere tutti insieme pur di tirare a campare. Se trovano i numeri, o Conte e Orenzi perdono la faccia evidentemente, vadano avanti, perché l'emergenza, ripeto, sono salute, scuola e lavoro, lei ricordava 621 mila vaccinati in Italia in tutte queste settimane, è esattamente il numero dei vaccinati in Gran Bretagna ieri. Ieri, ieri, sì, solo in un giorno, solo in un giorno. Ci hanno detto che il pericolo, Conte ogni volta che viene in Parlamento si volta verso i banchi della Lega e dice il pericolo per l'Italia sono i sovranisti. Ci hanno spiegato che fuori dall'Unione Europea non c'era vita, come non c'è acqua su Marte, guarda caso la Gran Bretagna ha scelto di uscire dall'Unione Europea e in un giorno, siccome ha comprato i vaccini in maniera più intelligente e per tempo, non firmando contratti farlocchi come hanno fatto a Bruxelles, in un giorno a Londra hanno vaccinato quanto l'Italia in tutte queste settimane. Aspetti un attimo là. Io vorrei parlare di questo in Parlamento, invece domani sui giornali ci sarà Entra Laboschi, Esce Orlando, ma chi se ne frega. Quindi fra Conte e Draghi io preferisco gli italiani, con tutto rispetto sia per Conte che per Draghi. Senta, un attimo solo, senatore Salvini, perché la Mennuni, voglio capire se sulla questione fondamentale, io lo so benissimo che sono gli italiani che contano e le cose vere sono dell'economia reale, però la politica, lei lo sa bene, fa il politico, ha un peso. Io come giornalista lo potrò pur dire, il rispetto della politica ce l'ho, perciò oggi io mi occupo di questo e spero di non occuparmene più e occupare dei problemi seri. Però Mennuni deve darmi, se ce l'ha, un'indiscrizione su quello che diceva il professor Celotto, cioè Fico domani deve andare al Quirinale. Abbiamo una minima indiscrizione di quello che Fico dirà, perché dice o sono riuscito a trovare una maggioranza coesa o non ci sono riuscito. All'una glielo dovrà dire. Cosa si dice a Roma? Sì Nicola, da fonti vicine alla presidenza della Camera, i tempi potrebbero non essere così lunghi come si pensava oggi in giornata, cioè Fico potrebbe andare da Mattarella e far capire al Presidente della Repubblica che la maggioranza tendenzialmente c'è e potrebbe andare avanti. Quindi se il Presidente della Repubblica dovesse accogliere in pieno il lavoro del Presidente della Camera potrebbe a quel punto dare l'incarico con riserva a Giuseppe Conte e a quel punto sarebbe Conte a portare avanti le trattative. A quel punto, scusi Salvini, arrivo un secondo, io mi faccio solo spiegare a beneficio perché lei lo capisce, i cittadini, poi tutte queste manovre, l'esploratore, il non esploratore, la maggioranza, soprattutto perché la stessa maggioranza di prima, non è che riescono a capirle bene. Perciò chiedo a Celotto e quindi a quel punto domani pomeriggio potrebbe salire Conte al Quirinale? Beh, a quel punto se l'esplorazione è positiva, le tre soluzioni, 1x2, esplorazione positiva, sale Conte al Quirinale, Fico dà l'ok e quindi Conte sarà chiamato domani o dopodomani. Opzione 2, non c'è maggioranza, si prova il governissimo, il governo del Presidente, la grande coalizione. Opzione 3, l'ultima per Costituzione, articolo 88, si sciolgono le Camere anticipatamente e si va a votare. Allora lei Salvini però oggi mi ha colpito perché lei invece ha dato un'opzione che non so se la 1, la 2 o la 3 la faccia capire bene agli italiani appunto. Cos'è il governo di scopo? Cosa sta dicendo? Cosa vuol dire quella roba là che ho sentito per capirla? No, guardi, la via maestra normale, naturale, dignitosa è impegnare due mesi per non rompere le scatole degli italiani per i prossimi cinque anni. Sa secondo me come finisce domani? Come finisce? Che vanno avanti altri giorni. Scommettiamo un caffè della macchinetta di Mediaset che vanno avanti altri giorni perché non si sono ancora messi d'accordo su chi entra e chi esce e su chi fa il ministro. Se così fosse sarebbe una cosa vergognosa perché c'è una situazione economica, una crisi che entra in milioni di famiglie, in milioni di casi. Se domani vanno al Quirinale e vengono loro concessi ancora due, tre, quattro, cinque giorni, veramente non avrei modo di commentare in maniera educata questa perdita di tempo. La via maestra, se non c'è una maggioranza, se non c'è un Parlamento composto da gente che ha voglia di dialogare, noi abbiamo provato a dialogare in tutti i modi. Ancora oggi, pensi che noi oggi abbiamo presentato come Lega degli emendamenti al decreto mille proroghe per rinviare le scadenze per i cittadini che abitano in zone terremotate perché la vita reale va avanti, non aspetta fico, il giovane esploratore. Io ho fatto il Boy Scout, quando avevo 12 anni ho fatto il Boy Scout alla CNJ in Milano 5 e facevamo gli esploratori di notte nei boschi ma avevamo 12 anni. Non puoi fare il giovane esploratore andando a raccattare ministri nei boschi con un'epidemia in corso e due milioni di posti di lavoro a rischio. È veramente imbarazzante, quindi la via qual è? Dal nostro punto di vista il popolo, le elezioni e ricordo a chi ci guarda, siccome tutti dicono che non si può votare in pandemia, saremmo gli unici. Falso. Votano nelle prossime settimane in Olanda, in Israele, in Bulgaria, in Albania, in Scozia, in Galles, voteranno in Francia, voteranno in Russia, in Germania, in Norvegia. Nel mondo sviluppato, se cade un governo e non si mettono d'accordo, chi decide? Decidono i cittadini, non decidono Fico, Laboschi o Conte. Quindi quello che abbiamo detto è ci sono tre o quattro cose urgentissime da fare, il diritto dei fondi europei, il blocco delle carte alle esattoriali. Ma come facciamo con il recovery? Entro aprile bisogna... Anche a camere sciolte c'è un illustre costituzionalista in studio. Il Parlamento può lavorare anche domani, anche senza una maggioranza, anche senza un governo. L'intero centrodestra, l'ha detto il Presidente Mattarella, andiamo in aula, approviamo un decreto per rinviare le cartelle esattoriali, approviamo tutti insieme un piano di utilizzo dei fondi europei, approviamo un piano vaccinale serio, assumiamo gli insegnanti per riaprire le scuole seriamente. Si può fare, si può fare anche a camere sciolte, quindi non possono prendere la scusa A, ma se andiamo a elezioni si blocca tutto. Falso. Se andiamo a elezioni, impegniamo due mesi e diamo la parola agli italiani e poi per cinque anni abbiamo un Parlamento che si sono scelti gli italiani, che per cinque anni lavora. Perché se domani si mettono d'accordo Fico, Renzi, Conte, io faccio il ministro, io faccio il sottosegretario, io vado all'Eni e io vado all'Enel. Fra due mesi siamo ancora qua e intanto vedo che parlerete anche di libertà, di educazione, di scuole paritarie, di futuro dei nostri figli, di abuso di psicofarmici, di disperazione che c'è nelle strade italiane e intanto non si fa nulla. Oggi, ma ti parlo normale Nicola e poi mi taccio, scusa ma perché certe cose mi fanno arrabbiare, che i principali quotidiani online oggi per ore accusassero gli italiani che ieri hanno osato a fare una passeggiata a Milano, a Roma, a Torino, a Bologna, a Palermo, delinquenti, siete usciti con vostro figlio, avete portato a spasso il cagnolino, avete fatto un giro in bicicletta, ma basta. La gente vuole vivere con la mascherina, con le precozze, ma basta questo terrore a reti unificate. Lasciamo vivere gli italiani. Oggi è un fiume in piena, senatore, che è successo? Secondo me questo è il vero segnale che il conto di terra è vicino, perché la vedo arrabbiatissimo. Ma succede Nicola, succede che in pubblicità, quando poi noi torniamo in dieta e giustamente tu fai il tuo lavoro perché giustamente chiedi di Conte delle consultazioni in Mattarella, poi su Whatsapp o su Facebook o su Instagram scrivono i sindaci, scrivono i ristoratori, scrivono i gestori delle palestre, scrivono i precari che lavorano nel turismo della montagna e ancora non si è capito se si può andare in montagna o non si può andare in montagna mentre il resto del mondo corre, noi siamo qua a passeggiare. Quindi capisci che giustamente tu, come molti colleghi giornalisti, chiedi a me ma come finisce? Vince Conte, vince Renzi e siccome la vita reale non è il derby Conte-Renzi, ma sono i problemi del lavoro e della scuola, a me viene da dire ma questi vivono su Marte, a me piacebbe che fossero gli italiani a decidere chi vince, non il Senato di Vinavil, perché il problema vero è che in Senato e alla Camera ci sono i parlamentari Vinavil incollati alla poltrona. Bene, lo sa che anche un po' di parlamentari suoi con la nuova riforma li perderà, anche se dovesse prendere le percentuali alte che le attribuiscono, senatore Salvini, cioè lei nonostante è considerato... Ma guardi, noi abbiamo lasciato sette ministeri. Dottor Porro, noi per mantenere la nostra coerenza e rispetto nei confronti degli elettori, visto che i 5 Stelle ci bloccavano ogni tipo di riforma che proponevamo dopo un anno, la flat tax, l'autonomia, la riforma della giustizia, la riforma del lavoro, noi abbiamo detto sapete cosa c'è? Noi non stiamo al governo giusto per dire chiamatemi ministro, diamo la parola agli italiani. Si sono messi insieme per non dare la parola agli italiani, ma alla fine i nodi vengono al pettine, dottor Porro. Io veramente spero che siano gli italiani a poter decidere, perché teoricamente appartiene al popolo la sovranità. Allora, i segnali sono importanti. Il senatore Salvini per la prima volta mi ha chiamato dottor Porro, vuol dire che è furibondo. Andiamo a vedere che cosa succede all'interno del Ministero della Salute, perché il tema fondamentale è una piccola notizia. In realtà Salvini l'ha detta prima, voi la conoscete bene la posizione di Quarta Repubblica, che è quello di rispetto delle leggi, ma anche quella di cercare. L'abbiamo fatto dall'inizio della pandemia, di raccontare la pandemia con non toni di allarme, soprattutto di colpevolizzazione degli italiani. L'altro giorno, quando stavano andando in zona gialla alcune regioni, non per uno spirito divino, ma per lo stesso algoritmo del governo, all'interno del governo c'è stata una furibonda battaglia, senatore Salvini. Perciò io mi chiedo, qua stanno discutendo i ministeri di tutti quanti, ma non stanno discutendo la questione fondamentale, cioè il Ministero della Salute, che ha al suo interno forse una parte, una componente un po' meno attenta, mettiamola così, alla lista della spesa che lei continuamente fa. Gli autonomi, il lavoro, i privati, i ristoratori. Guardi, le continuo anch'io perché anche a me mi arrivano quantità innumerevoli, perché guardi se 110 mila persone hanno perso il lavoro tra novembre e dicembre con il blocco delle assunzioni, immagini lei che cosa verrà quando non ci sarà il blocco delle assunzioni. Guardate che succede alla salute e lo voglio commentare con Salvini. A mollare, come spiega una persona presente all'ultima riunione del Comitato Tecnico Scientifico, è stato il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Sotto la forte pressione dei governatori di Friuli Venezia Giulia Liguria, ha dato il via libera alla zona gialla per dieci regioni che rischiavano di rimanere un'altra settimana in fascia arancione. Da una parte le istanze economiche, dall'altra la rigida interpretazione dei dati. E anche riuscire a capire che c'è un contesto fuori che rischia di ammalarsi l'altro. Non è la prima volta che le regioni si scontrano col Ministro, esponente della linea del rigore e delle chiusure per il contenimento del virus, come spiega una fonte del Ministero. Lo scontro è stato epocale. Urla, insulti, di tutto e di più in quelle regioni. La presidenza del Consiglio è dovuta intervenire. Le limitazioni previste dovranno essere rafforzate. Abbiamo l'obbligo di prendere nuove misure. Dobbiamo continuare con misure chiare e rigorose. La terza ondata è dietro l'angolo. Laureato in Scienze Politiche, leader di Articolo 1, partito fondato con Massimo D'Alema dopo la scissione dal PD Renziano, Speranza è diventato Ministro in quota l'EU ed è considerato l'erede della tradizione della sinistra di Bersani e D'Alema. Tanto che da quell'area politica provengono tutti i suoi collaboratori più stretti al Ministero. Sono tutti gli Articolo 1 del Partito di Speranza. Il capo di gabinetto del Ministro Speranza è il capo di gabinetto storico di Bersani. Il capo di gabinetto è Goffredo Zaccardi, consigliere di Stato, già capo di gabinetto ai tempi di Bersani. Capo della segreteria politica è Massimo Paolucci, ex europarlamentare in quota d'Alema, anche global advisor del commissario all'emergenza Domenico Arcuri. Segretaria particolare di Speranza è Federica Zaino, anche lei già capo segreteria di Articolo 1 e anche lei inserita nella struttura del commissario. C'è poi Walter Ricciardi, consigliere di Speranza e portavoce della sua posizione più intransigente sulle chiusure. Il Governo ritiene inevitabile, prima di tutto, prorogare al 30 aprile lo stato di emergenza che scade il 31 di gennaio. Indenne alla crisi di governo, Speranza rimane ben saldo alla guida di un Ministero in prima linea nella gestione della pandemia, sulla quale pesano record di morti in Europa e mancanze come quelle sul piano pandemico, su cui indaga la procura di Bergamo. Con tutte le mancanze che stanno emergendo anche in questo periodo, penso solo alla procura di Bergamo, non mi sembra aver mai usato una parola di stigmatizzazione di quello che è emerso nella condotta dei suoi dirigenti. Anzi, Speranza ha sempre parlato di modello italiano e rivendicava così a luglio il primato dell'Italia anche sui vaccini. Su questo terreno l'Italia è avanti. Siamo stati noi, io in modo particolare, col Ministro della Germania, dell'Olanda e della Francia a sottoscrivere un'intesa per tutti i paesi europei, per 400 milioni di dosi, di cui le prime 60 da consegnare entro la fine dell'anno. Allora, lei non pensa, Senatore, che per tutte le cose che lei continua a dire, cioè dell'economia, in realtà il nodo fondamentale, adesso lo voglio personalizzare, ma è sciocco farlo in maniera così sintetica, non è tanto il Ministro Gualtieri. Il Ministro Gualtieri può anche essere mazingazzetta, ma se siamo chiusi e le clersono a terra, tu puoi avere chi ti pare, non è che riusciamo a tirar fuori con i ristori, anche se fossero dieci volte più grandi e ingenti e più veloci, risolviamo la questione. Non crede che quello sia il vero nodo di una proposta politica alternativa, Senatore? Sì, e voi avete ricostruito perfettamente il fatto che il Ministero della Salute è retto da un partito, perché c'è tutta la seghetteria di un partito che sfido i telespettatori a ricordarne l'esistenza, l'EU, articolo 1. Gli ultimi Dalemiani e Bersaniani sono rimasti a guidare il Ministro della Salute. Se lo facessero in un momento normale sarebbe poco rispettoso nei confronti di medici, infermieri e personale sanitario, ma va bene, abbiamo visto di peggio. In un momento in cui è strategica ogni scelta, ogni decisione, ogni apertura, ogni chiusura, ogni nomina. Vi ricordate che per mandare un commissario alla sanità in Calabria ne hanno dovuti cambiare cinque perché ne pigliavano uno peggio dell'altro sulla pelle dei calabresi? Ma vogliamo dirci che in questo momento, questa sera, lunedì 1 febbraio, con le richieste che arrivano dalle regioni, mandateci medici, io oggi ero in Regione Lombardia, hanno chiesto fateci usare anche gli specializzandi, cioè coloro che sono già laureati in medicina, che non hanno finito il percorso in specializzazione per vaccinare, per andare in corsia d'ospedale. In Lombardia si è fatto un accordo con le farmacie per permettere ai farmacisti affiancati dai medici di vaccinare, quindi ci si sta ingegnando per correre e sapete che il commissario Arcuri, nominato appunto da Speranza e da Conte, invece ha fatto un bando da centinaia di milioni di euro per le primule, per le primule. Ne parliamo tra poco. Ne parliamo, ne parliamo. Ne parliamo, ne parliamo. 400 mila a tendone. Ma secondo te l'emergenza in questo momento è assumere medici e infermieri e trovare i vaccini o costruire delle primule nelle città italiane? Ma questi veramente ci prendono per festa. Le faccio, le faccio. Ripeto, leggevo adesso che il PD chiede più tempo, tradotto per chi ci guarda da casa. Domani non se ne esce perché si stanno scannando sui ministri, sulla giustizia, sul MES, sulle autostrade. Io faccio appello al Presidente Mattarella, in cui confido che è il garante dell'unità e della tenuta sociale di questo Paese. Presidente, non permetta che passino altri giorni, altre ore, perse. Perché ogni giornata persa è un'azienda che chiude, è un operaio che rimane a casa senza portare a casa lo stipendio e il pane per i suoi figli. Se hanno i numeri domani, vengano in Parlamento, ce lo raccontino e lavoriamo. Sulla salute, sulla scuola e sul lavoro. Se non hanno i numeri, a casa. Basta. Fine. Dicidono gli italiani. E dentro Pasqua c'è un nuovo Parlamento con un nuovo governo. Va bene. Pensi oggi è il primo febbraio, sembra sembra una roba marziana. Se andiamo a votare entro Pasqua. No, no, 60 giorni. No, 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 no. Ce la facciamo entro Pasqua. C'è un nuovo Parlamento, un nuovo governo. Fermo, fermo Salvini. Ce la facciamo entro... Ce la potremmo fare? No, perché farà 45 e 70 giorni dallo scioglimento. E che vuol dire quando, verosimilmente? Metà aprile. Vabbè, metà aprile, non estate. Metà aprile si potrebbe avere un altro Parlamento. Puoi andare a votare, sì. Si potrebbe fare. Ed è vero quando dice Salvini che il Parlamento nel frattempo potrebbe votare alcune cose, fare alcune norme? Sì, il Parlamento è un organo permanente, resta in carica fino a che si insedia il nuovo. Quindi potrebbe andare avanti? Pienamente. Potrebbe rimandare le cartelle esattoriali? Anche il governo va avanti fino a che si insedia il nuovo governo. C'è continuità. Quindi lei dice che si potrebbe... Sì, però lo scioglimento delle camere è l'ultima soluzione. Certo, e questo ce lo insegna la storia costituzionale, pensiamo a Berlusconi 94. No, rompe l'alleanza con la Lega, lui chiede andiamo a votare e Scalfaro trova un'altra maggioranza. Perché questa è la forma di governo parlamentare, non è presidenziale come negli Stati Uniti o nelle regioni. Senta, allora Salvini, le voglio far sentire che cosa dice... Guardi, Veneziani io lo adoro, è un intellettuale diciamo fuori dal coro e non è certo possibile definirlo un amante del governo Conte. Però senta una breve parte della sua intervista che poi vedremo rilasciata a Savateri, perché riguarda il centrodestra. Senta un attimo, è brevissima. Credo che la destra italiana non faccia bene a irrigidirsi sulla posizione o il voto niente, anche perché rischia di essere un supporto a un governo Conte-Ter. Perché se non ci sono altri margini di manovra e se non c'è la prospettiva, per esempio, di un governo istituzionale, l'unica cosa che resta è che questa maggioranza, leggermente modificata, possa partorire un governo e l'ipotesi più probabile a quel punto resta Conte. Nel 2018 Salvini costituisce il governo giallo-verde e Berlusconi praticamente gli dà via libera. Oggi, invece, questa possibilità, perché non è data da Salvini a Berlusconi? Penso che in effetti con il precedente di Salvini, che ha fatto un governo con i grillini, ma è rimasto nell'area del centrodestra, anche Berlusconi in teoria potrebbe fare un governo istituzionale restando nell'area del centrodestra. Però a me interessa, scusi, la prima parte dell'intervista, che è una parte che io vorrei spiegare bene ai nostri telespettatori. Salvini, scusi se parliamo di politica e non di economia reale, ma col fatto che lei chiede le elezioni, col fatto che lei chiede le elezioni, col fatto che una parte del centrodestra chiede le elezioni, lei mi ha spiegato prima il Vinavil, cioè hanno tutti paura di perdere il loro seggio e quindi più chiede le elezioni lei e più si metteranno d'accordo per fare un conteter, tesi veneziani, l'ho ripetuta, meno bene dei veneziani, ma a beneficio di tutti quanti per chi sia sottolineato. Cioè il Vinavil, se lei dice le elezioni, diventa molto più incollante, senatore Salvini. Allora cosa dovrei dire? Che vado al governo col PD, con Zingaretti e la Boldrini, per cancellare quota 100 e tornare alla legge Fornero? Eh non riesco, non riesco. Magari qualche politico più abile alla Mastella o alla Di Maio, verrebbe da lei e siccome gli conviene dice no tranquilli italiani, ci penso io, faccio un governo Salvini, Boldrini, Zingaretti, Fico, ma le sembra normale, le sembra serio, le sembra rispettoso. Adesso io non so se convenga o non convenga, io ringrazio italiani che continuano a premiarci come primo partito in questo paese, potrei stare tranquillo all'opposizione, facendo finta di nulla, dicendo questi qua vadano avanti, si fanno del male. Il problema è che non si fanno del male Fico, Di Maio e Zingaretti, fanno del male all'Italia, perché chiudono negozi, chiudono scuole, chiudono aziende. C'è un utilizzo di psicofarmaci che è triplicato, Nicola, in questo periodo. I nostri adolescenti rischiano di portare avanti dei danni devastanti. Io sentivo un giornale radio questa mattina che diceva è raddoppiato il consumo di alcune droghe portate a domicilio. È chiaro che se tu non fai uscire la gente, se tu tieni chiusi in casa, tieni chiuse le scuole, chiusi i teatri, chiusi i cinema, chiusi le palestre, le piscine, gli impianti sportivi, non puoi fare gli allenamenti, non puoi andare qua. Cosa fai? Stai a casa? Ti sballi? Ti ammazzi di internet e vedi i bimbi che vanno su TikTok e si impiccano? Ordini la droga a pagamento a casa tua. Io non posso andare al governo, Nicola, con chi ritiene che alcune droghe siano un passatempo, un simpatico svago. No, la droga è merda, la droga è morte. Io sono per la vita, non per la morte. Alcuni c'è andato al governo con alcuni di quelli. Facciamo il governo di salvezza nazionale. E poi l'abbiamo mollate le poltrone. Io rivendico quello che abbiamo fatto, la flat tax per gli autonomi, quota 100, la legge sulla legittima difesa, una legge sull'immigrazione. Apro una piccolissima parentesi perché so che tu sei un vero liberale, ma ti pare normale che con quello che ha scritto il dottor Palamara, non detto, scritto, denunciando che le procure venivano insegnate in base alle correnti, alle simpatie politiche, il tribunale qua. È tutto normale. Non c'è un'inchiesta, non c'è sdegno. Fermo là, Fermo là, Salvini. Mi faccio fare una domanda su questo. Quello dove sembra normale assegnare le procure delle repubbliche in base alle simpatie politiche e poi indagate Salvini perché ci sta sulle palle. Facciamo scegliere gli italiani, Nicola. Luca Palamara e Alessandro Sallusti tra poco arriveranno qua perché quella roba lì certo noi ne parliamo, ma proprio nel dettaglio facciamo 40 minuti solo con loro perché quello che c'è in quel libro è una commissione d'inchiesta. Io sto leggendo il libro che hanno scritto ed è allucinante. Ma oggi Ruggeri, un parlamentare di Forza Italia, Ruggeri chiede di fare una commissione d'inchiesta. ha letto il libro e ha detto che è incredibile quello che esce. Lei è d'accordo? Sono pienamente d'accordo. Cioè la Lega farà richiesta con Forza Italia di fare una commissione d'inchiesta bicamerale o parlamentare su quello che è stato, diciamo, la ferpa Lamara? Assolutamente sì, perché il problema della giustizia non è il processo a Salvini o i processi a Berlusconi. Ci sono, Nicola, 5 milioni di processi arretrati, 3 milioni di cause civili e pendenti, il che vuol dire cause di aziende, divorzi, affitti. Ci sono 300 mila processi tributari in sospeso, vuol dire che ci sono imprenditori che hanno ragione, che sono stati truffati, che non hanno ancora visto una lira. E c'è gente che invece è stata investita da una cartella esattoriale da cui non riesce a liberarsi i danni, quindi la riforma della giustizia non va fatta per Salvini o per Berlusconi, va fatta perché ci sono 5 milioni di italiani che se beccano l'ufficio sbagliato o il giudice sbagliato sono rovinati. Le proposte per migliorare la situazione ci sono, immagino ne parlerai. Stabilizzare i 3 mila magistrati onorari e giudici di pace per fare più in fretta. Quindi non mancano le soluzioni. Però un Parlamento nuovo può fare una riforma della giustizia. Te lo vedi Bonafede che fa la riforma della giustizia? Insieme a Renzi. Allora... Per la riforma della giustizia Renzi-Bonafede. No, però di fatti si sta parlando di far fuori, scusi il gergo un po' sempliceristico, proprio Bonafede, cioè uno degli elementi fondamentali è che Bonafede non sarà più Ministro della Giustizia e ci sarà un Ministro della Giustizia che avrà un atteggiamento più garantista. Poi guardi, lei lo sa che ogni volta che la vedo, non mi permetto, ma le tirerei le orecchie per il fatto della prescrizione, quella roba lì vi siete fatti, lasciamo perdere, è stata votata dal governo giallo verde. Però io le voglio fare una domanda, ed è la seguente. Voi un contratto con Movimento 5 Stelle l'avete firmato? Io mi ricordo, si ricorda quella riunione, partecipava Claudio Bonafede, partecipava Siri che si inventò la flat tax, voi avete ceduto sul reddito di cittadinanza, insomma, ognuno ha fatto un compromesso. Perché non lo possono fare anche in queste ore PD e Movimento 5 Stelle? Non crede che anche loro possano fare un contratto e andare avanti per i prossimi due anni? Ma non stanno mica governando da un anno e mezzo, Nicola? Pare che stiano governando da un anno e mezzo, così pare a noi italiani. Noi abbiamo fatto un contratto, per un anno rispettando il contratto siamo andati avanti, poi quando hanno iniziato a parlare i no alla Toninelli, no all'autonomia, no al taglio delle tasse, no alla TAV, no alle Olimpiadi, no alla Gronda di Genova, ma no alla riforma della giustizia, abbiamo detto, ragazzi, stare insieme come in una coppia, continuare a stare insieme per litigare con gli italiani che ci pagano uno stipendio e non riusciamo a fare quello che abbiamo promesso, lasciamo perdere. PD e 5 Stelle stanno governando da un anno e mezzo. Tutti i ricordi avevano promesso la green economy, le infrastrutture, la scuola. L'unica cosa che rimane agli annali del governo PD e 5 Stelle sono i banchi con le rotelle. 461 milioni di euro sbattuti nel bidet, come si dice a Oxford, 461 milioni di euro che avrebbero potuto stabilizzare gli insegnanti precari, avrebbero potuto aiutare le scuole paritarie nel nome della libertà ed educazione, no. 461 milioni di euro per comprare i banchi con le rotelle che sono nei magazzini delle scuole perché non funzionano e fanno male alla schiena, denunciano i presidi. Quindi io spero per serietà che la prossima volta che mi inviterai staremo parlando di quello che il Parlamento fa, perché io sono qua a Roma per andare in Senato domani, ma se domani vado in Senato è chiuso. Perché il Senato non lavora perché si stanno trovando fico e laboschi per decidere che cosa fare. E invece io vorrei che il Senato approvasse un piano vaccinale serio, una riforma del lavoro perché il 31 marzo, tu sei uno dei pochi che ne parla, fammi dire solo questo, oggi è il primo febbraio, il 31 marzo è dietro l'angolo, con lo sblocco dei licenziamenti, gli imprenditori, non perché sono cattivi, ma per ripartire e non portare i libri in tribunale, dovranno rinunciare a qualche collaboratore. E ci sono due milioni di posti di lavoro a rischio. Vogliamo preoccuparcene oggi, tagliando il cuneo fiscale, permettendo agli imprenditori pagare meno contributi allo Stato per licenziare di meno, o arriviamo al 30 marzo senza sapere cosa fare. Ecco, mi piacerebbe che il Parlamento di questo... Ne parleremo certamente noi, continuiamo a farlo. Grazie al Senatore Salvini, l'ho visto oggi veramente, c'è lotto, molto come ai tempi senti d'odore di elezioni, ma io temo, caro Senatore, che il Vinavil sarà più forte. Però è un timore che verrà smentito dal caffè alla macchinetta che ci prenderemo, spero, presto. Viva l'Italia, sempre. Arrivederla, Senatore.